Abbiamo, parlavamo di fortuna e sfortuna, chiamiamolo fortuna, abbiamo tre partite in casa su Tirol, Tristina e Fermana, prima di Natale, perché poi andiamo a passare, però per concludere il giro abbiamo tre partite in casa e due fuori. Dobbiamo sfruttarla al meglio perché abbiamo veramente bisogno di punti come il pane e se col Sant'Arcangelo non ci siamo riusciti sappiamo che col su Tirol dobbiamo provare a fare di tutto per portare a casa dei punti, questo è importante perché se no poi le cose diventano una situazione molto difficile. Credo che come lo è nella vita, quando bisogna essere un po' più cinici, bisogna arrivare direttamente, fare una strada un po' più dritta, credo che sia questo il metodo e bisogna averlo dentro. Poi vengono gli aspetti tecnici che vanno quelli purtroppo a volte possono mancare, alcune cose non si possono allenare, la cattiveria, la personalità non si possono allenare. Si può lavorare sull'aspetto mentale che è quello della fiducia e dell'entusiasmo, ma questo dipende dai risultati e i risultati possono venire solo attraverso quella che è la cattiveria, il cinismo di voler raggiungere semplicemente anche un punto a volte. Queste sono delle strade che secondo me bisogna percorrere in maniera diretta perché se no poi vanno a rovinare magari quanto di bello ho fatto l'anno scorso o quanto ci ha messo a disposizione la società quest'anno per raggiungere il nostro obiettivo. Grazie a tutti.